Dopo la sosta di campionato, dovuta alla parentesi di Coppa che ha premiato il barcellonese Giovanni Perdichizzi alla guida di Scafati, la briosa Barcellona torna in campo per riprendere il suo difficile e travagliato cammino verso la conclusione di una stagione, almeno fino a questo momento, tutta da dimenticare. Difficile appare finora l'avvento di un miracolo che possa cambiare il corso delle cose. Barcellona occupa stabilmente le sabbie mobili della classifica e reduce dall'esonero di Bartocce e dalla sconfitta di Roma, dove ha tuttavia mostrato la voglia di non volersi arrendere a un destino che appare ormai scontato. In vista della gara di domani, coach Francesco Trimboli deve fare conti con il dubbio di Franco Migliori che non si è potuto allenare al meglio a causa di un fastidioso infortunio. Quasi certa, per non dire certa, l'assenza dell'americano Lenzel Smith Jr. Il giocatore non si è allenato per qualche giorno e probabilmente vorrebbe accasarsi a Recanati che lo avrebbe cercato nelle scorse settimane e che può ancora tesserarlo. Potrebbe esserci questo alla base della sua assenza sul parquet in questi giorni. Insomma, le grane non mancheranno nemmeno questa settimana e il calvario, perché ha il giallo-rosso nel cuore nonostante tutto, appare destinato a proseguire.